Presidente, il TTIP, il trattato di libero commercio che si sta discutendo nel segreto generale tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America, è uno degli esempi di quel che significa cedere sovranità a organi esterni senza alcun controllo da parte del Parlamento nazionale. Sembra normale che il Parlamento della Repubblica italiana non conosca nei dettagli dei trattati di libero commercio che hanno distrutto, lei ha lavorato tanti anni nella cooperazione internazionale, le economie autoctone di centinaia di popolazioni, io penso al trattato di libero commercio tra gli Stati Uniti, il TLS e l'area caraibica o latinoamericana, cioè potenti che all'insaputa dei Parlamenti nazionali, queste avvenute in America Latina, distruggono le economie contadine e autoctone dei paesi poveri. Oggi l'Italia è il paese povero in Europa e cedere sovranità, il deputato Buttiglione non so se se ne renda un po' conto, significa esattamente impedire a Parlamenti nazionali di mettere bocca su provvedimenti che potranno inficiare negativamente nei prossimi 50 anni qui in Italia. Grazie Presidente.